Crutch, bind, set. Benvenuti cari amici del canale Dampatragbi. Seconda prova di questo video. Mi scuso, ne ho caricato prima uno senza audio. Purtroppo ho avuto un problema tecnico. Allora, oggi parliamo degli All Blacks. Ossia proviamo a rispondere alla domanda Ma sono tornati gli All Blacks? Bene, partiamo da qualche mese fa, 11 mesi fa in un video che potete andare a cercare sotto il titolo Chi ha paura degli All Blacks? Ci interrogavamo qui sul canale. Beh, dopo 4 sconfitte negli ultimi 5 test match all'ora di cui ben 3 con l'Irlanda eravamo alla vigilia del Rugby Championship 2022 e la domanda era veramente quella. Ossia, ma sti all Blacks? Dove sono finiti? Diciamo che quella serie negativa continuò poi anche nella prima partita con il Sud Africa e ancora con la sconfitta con l'Argentina. Entrambe poi in qualche maniera sistemate con la partita di ritorno e poi il torneo rimesso in piedi con la doppia vittoria con l'Australia che costò la panchina a Dei Vrenni. Bene, in Nuova Zelanda si scatenò letteralmente il putiferio mentre i giocatori almeno di facciata difendevano Ian Foster stampa, pubblico, tifosi e anche ex giocatori autorevolissimi come Fitzpatrick bene, attaccarono di petto il coaching degli All Blacks. Vi ricordate? Fitzpatrick disse addirittura l'Irlanda outcoached us ossia ci hanno battuto non outplayed, outcoached ci hanno battuto sotto il punto di vista del coaching sotto il punto di vista della preparazione alla partita dell'allenamento e allora iniziarono le review le famose review poi ci fu la review della review della review e venne ripescato per la seconda volta Joe Schmidt come consulente ma fondamentalmente come tutor di Ian Foster la prima volta disse bene, lo chiamiamo perché venga a spiegarci quello che di buono fanno nell'emisfero nord un po' una missione di tra virgolette inferiorità di una Nuova Zelanda che invece aveva sempre guardato tutti dall'alto verso il basso e poi invece la seconda volta proprio in maniera più palese lo misero quasi a fare da balia a Ian Foster ma da quelle review Ian Foster non venne esonerato ma chi pagò il prezzo furono in primis gli assistenti gli assistenti di Foster sembrava impossibile di fatti che la mischia andasse così male e allora viene dato il ben servito a Plumtree arriva Jason Ryan dai Crusaders Foster si prende invece in carico direttamente il lavoro dei tre quarti e allora qualcosa inizia a cambiare anche perché appunto Foster si incarica dei tre quarti Jason Ryan si incarica degli avanti e chi fa il capo allenatore? beh teoricamente sia ancora Ian Foster però in realtà la mano di Josh Schmidt dai lo si vede anche nel coaching box delle partite di questo del Rugby Championship lui in piedi dietro a tutti un po' a sorvegliare e un po' a sopravvisionare il lavoro che sta facendo il coaching staff e allora si iniziano i cambiamenti si inizia a vedere qualcosa già dei test di novembre dopo una prima partita tutt'altro che convincente con il Giappone arriva però una chiara vittoria col Galles dove per la prima volta almeno di questo ciclo viene provato Jordi Barrett a 12 occhio perché questo è stato un momento importante per arrivare agli All Blacks di oggi improvvisamente sembrò una vera e propria scossa probabilmente Foster o Schmidt decidete voi nella vasca da bagno un certo momento hanno gridato come Archimede Eureka e da lì iniziarono a costruire un progetto diverso un progetto che appunto ok non è tutto basato su quel giorno di Barrett a centro però lì iniziarono a cambiare tante cose si aprirono gli scenari del playmaking il gioco aereo possibilità di gioco al piede si trovò il posto per Boden Barrett a estremo senza dover fare magheggi insomma diciamo che quel momento lì fu un momento veramente chiave non è solo quello serviva ovviamente del tempo anche perché la ricostruzione era lunga e proprio in questo Rugby Championship iniziano a vedersi i primi frutti per esempio la partita con l'Argentina la partita con l'Argentina seppur non è ancora il capolavoro che poi è stata la partita contro gli Springboks ma ci dà tante indicazioni no? per esempio la mischia la mischia che sembra lontanissima apparente di quella dell'anno scorso ricordate la mischia dell'anno scorso degli All Blacks era letteralmente un pianto però non solo invece quest'anno è un'ottima mischia dominante che riesce a prendersi penalità una mischia difficile da affrontare e che si sa adattare bene anche agli avversari e poi le soluzioni al playmaking abbiamo detto Jordi Barrett ma Jordi Barrett dà quel qualcosa in più che in qualche maniera esalta anche Boden Barrett all'estremo oppure i dieci che sono non più uno ma due perché la stagione fantastica di Damian McKenzie lo ha fatto diventare un'opzione a dieci e allora sia con Di Mac che con Richie Munga le cose sono andate bene quindi le soluzioni iniziano a diventare tante e tutte molto interessanti e poi non è solo il dieci il nove c'era un reale problema al nove non si trovava più il nove degli All Blacks si erano provate varie soluzioni con il buon TJ Perenara c'era stato Brad Weber Finley Christie e alla fine come si risolve il problema beh con il buon vecchio Aaron Smith Aaron Smith che viene ripescato e insomma che Aaron Smith abbiamo visto sia contro l'Argentina che contro il Sud Africa ma poi davanti abbiamo detto della mischia quindi le prime linee ma signori le seconde e le terze seconde e terze letteralmente prorompenti da far paura sono finite tutte le polemiche su Sam Cain due ottime partite per il capitano ma Frizel Frizel nell'ultima partita sembrava letteralmente Gionalomo lì sulla linea dell'out a passare sopra a vari a vari giocatori sudafricani e poi vabbè ovviamente il solito Ardi Savea probabilmente si è trovata anche la terza linea e pensate quanti ne stanno fuori pensate quanti ne stanno fuori così come in seconda sta fuori tanta gente perché Scott Barrett e Brody Retallic sono sembrati così ben affiatati nella partita con il Sudafrica da mettere in dubbio persino la titolarità di un mostro come Sam Whitelock che sta tornando dall'infortunio anzi che è già disponibile come ci hanno detto e allora la domanda sono tornati gli All Blacks? diciamo che sono sulla buona strada se la partita con l'Argentina poteva non essere indicativa fino in fondo anche perché era una diciamo che già la seconda partita inizia a essere qualcosa di più interessante ne servono tre no di indizi per fare la prova secondo Sherlock Holmes vedremo la partita con l'Australia però nella partita con il Sudafrica vediamo degli All Blacks nei primi 20 minuti letteralmente fenomenali letteralmente fenomenali ci hanno ricordato a Sprazi lo diciamo a bassa voce ma gli All Blacks quelli lì quelli veri quelli del 2015 capacità di veramente di aggredire l'avversario di muovere il pallone velocemente dal punto di incontro di rompere davanti per poi spostare fuori opzioni ma soprattutto un gioco molto molto equilibrato per esempio le statistiche del kicking game ci raccontano una distribuzione dei calci molto interessante pensate che ad esempio i tipi di calcio hanno calciato 10 volte per il territorio 11 volte up and under 3 volte chip kick 4 volte cross field quindi anche lì varie soluzioni e usate tutte molto molto bene per esempio di quei 10 calci di quegli 11 calci up and under sono riusciti a riportarsene a casa l'83% insomma tanta roba veramente tanta 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 roba e poi le individualità le individualità pensate che gli all blacks stanno iniziando a parlare della bomb squad in versione all blacks ossia i sudafricani ci raccontavano che mettono una panchina più forte dei titolari per poi farci paura bene guardate che anche noi abbiamo della gente molto molto importante in panchina basta pensare alle ali allora Will Jordan prestazione incredibile contro in sud africa prestazione che ha fatto parlare di miglior ala del mondo adesso io non so se Will Jordan sia la miglior ala del mondo forse non è nemmeno un ala ma è più un estremo però nove difensori battuti una meta tre line breaks una capacità di cambiare gli angoli di corsa e rendersi letteralmente imprendibile che veramente pochi giocatori hanno così come Boden Barrett Boden Barrett da questo punto di vista nelle linee di corsa gli assomiglia parecchio o forse più Will Jordan che assomiglia a Boden Barrett però si è parlato della migliore prestazione di Boden Barrett da anni a questa parte probabilmente da quando vinceva i player of the year abbiamo detto Boden Barrett e Will Jordan ma occhio che all'ala gli All Blacks hanno gente come Mark Telea hanno Narawa hanno Leicester Fainganuco hanno Caleb Clark beh solamente questi giocatori qui per due posizioni se mettiamo Boden Barrett e staremo ti fanno dire wow ti fanno dire wow occhio che gli All Blacks sono non solo tornati ma fanno letteralmente paura adesso si che fanno paura e poi non solo dietro anche davanti Jason Ryan ha fatto un lavoro letteralmente fantastico si sono proprio visti palesi cambi cardinali nel line out e in mischia chiusa per esempio se prendiamo il line out in rimessa laterale viene Scott Barrett gestore delle chiamate ottima l'intesa appunto con Retallic iniziamo a vedere una rimessa laterale sensata anche quello aveva scricchiolato in qualche maniera in quel periodo buio diciamo degli All Blacks e ragazzi probabilmente non abbiamo visto nemmeno tutto perché hanno vari giocatori che stanno rientrando da infortuni alcuni di questi anche molto importanti e che potrebbero in qualche maniera essere delle opzioni per la titolarità abbiamo parlato di Whitelock ma Joe Moody Fletcher Newell David Avili Blackadder Liner Brown Anton Liner Brown beh ecco gli All Blacks iniziano a parlare di una possibilità di avere una All Blacks Bomb Squad se ne è parlato molto questa settimana quindi di chi è il merito di Joe Schmidt sì parecchio ma anche di Foster anche di Foster perché Foster probabilmente dopo ormai essendosi quasi si è reso alla volontà del board ha trovato anche una nuova serenità è arrivato a occhio Wayne Smith a fare il direttore dell'alto livello che probabilmente è riuscito a legare qualche filo sciolto e a connettere qualche punto probabilmente Ian Foster ha accettato ormai di buon grado diciamo l'intrusione di Joe Schmidt capendo che può essere un valore aggiunto che lo potrebbe aiutare ad arrivare il più in fondo possibile a questi mondiali e probabilmente nessuno come Ian Foster lo vuole visto che lui dopo abbandonerà gli All Blacks e vedi mai che soddisfazione sarebbe magari lasciare con una coppa del mondo e dire ah avete visto che poi così tanto non ero nemmeno io e quindi dove potrebbero arrivare questi All Blacks e diciamocelo chiaro potrebbero anche vincere il mondiale certo potrebbero anche vincere il mondiale intanto sono ancora tra le squadre favorite secondo le quote ma poi come si può non considerare gli All Blacks tra le favorite di un mondiale paradossalmente lo scoglio più grande lo avranno ai quarti di finale dove dovrebbero affrontare o il Sud Africa o l'Irlanda ok dai nei gruppi no purtroppo purtroppo nei gruppi no perché saremmo noi l'unica a poterli mettere in difficoltà però è veramente veramente complicato diciamo lo scoglio più grosso lo potrebbero avere nei quarti di finale con Sud Africa o Irlanda attenzione Irlanda numero uno del mondo e avrà Sexton Sud Africa non sarà soprattutto dal punto di vista atletico quello della settimana scorsa oltre a recuperare due giocatori veramente chiave forse i più chiave del mondiale 19 come Pollard e sia Colisi Capitan Colisi saranno una squadra secondo me proprio dal punto di vista della strength and condition della forma fisica atletica molto diversi da quelli che abbiamo visto la settimana scorsa tenete presente che adesso nel Rugby Championship i sudafricani vengono da delle esperienze di minutaggio molto disomogene rispetto ai giocatori neozelandesi che vengono dal super rugby nei sudafricani c'è un po' come per l'Argentina c'è chi arriva dal Giappone c'è chi arriva dall'Inghilterra chi arriva dallo UFC chi arriva dalle squadre sudafricane chi dall'Irlanda chi dall'Italia insomma arrivano un po' da tutte le parti del mondo ma poi superato quello scoglio la semi potrebbe potrebbe essere più semplice perché si incontreranno con una squadra della parte bassa del tabellone quindi Inghilterra la più pericolosa ma le altre Fiji Argentina Georgia Galles Australia qualunque di queste squadre sia diciamo non proprio impossibile e poi attenzione perché se arrivassero alla finale attenzione perché lì nessuno si sente tranquillo ad affrontare gli All Blacks men che meno la Francia che potrebbe rivedere in quella partita i fantasmi del 2011 e allora io dico intanto ragazzi godiamoceli godiamoci gli All Blacks perché gli All Blacks sono patrimonio comune di tutti gli appassionati del rugby e godersi gli All Blacks significa godersi il rugby Fischio finale ditemi che cosa ne pensate nei commenti sotto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti spingiamo questa molle e ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video e scusate per l'inconveniente tecnico del video di prima ciao ciao